Allora non voglio soffermarmi sulle tue dichiarazioni nel dopogara con il Sassuolo perché mi sei sembrato un po' troppo polemico ma quello è passato, non so, il motivo per cui eri come se tu avessi un Sassuolino sulla scarpa da toglierti Un Sassuolino io no, ho detto quello che pensavo Sì ho capito, però era un momento anche no dell'Udinese No, ancora un momento no Esatto, è lì la domanda E lì la domanda è il problema Per tanti il problema no, per me no Allora Un gioco di parole Allora volevo arrivare lì alla domanda sul momento, sull'allarme che non è ancora cessato perché sinora voi avete vinto una gara perse due, perse due, perse tre non vorrei che domani vinta una gara, persa un'altra domani avete un'opportunità per uscirne almeno per dimostrare che state uscendo è così? Questa tiri terra qua va avanti dalla partita del Chievo dopo la partita del Chievo una tiri terra è continuata sempre, continuamente non è mai cambiata al di là delle sconfitte No, io ti rispondo tu lasciami finire perché se no se mi fai saltare la frase io voglio cominciare a finire la frase e quindi ho cominciato da là quindi le difficoltà ci sono state le sconfitte ma subito dicono che possiamo migliorare le prestazioni sono attenenanti però io penso che la squadra abbia certe caratteristiche per poter uscire oppure per dare continuità al risultato poi pensiamo che il mercoledì hanno giocato quattro giocatori quasi a sorpresa dando del turnover anche ai giocatori importanti come Lopez, come De Paul, come Fofanà, come me stesso è stato fermo nel San Miri centrale al posto dei altri centrali quindi ho avuto delle situazioni importanti la squadra secondo me ha risposto molto bene dal punto di vista e per me è sufficiente questo momento qua perché avere giocatori che si prestano a giocare a star fuori anche con con l'attaccamento al gruppo il valore del gruppo per me è importante del gioco del calcio o delle cose che possono accadere poi in campo poi le prestazioni se giochi bene e perdi non va bene se giochi male e vinci non va bene noi dobbiamo andare avanti cercando di migliorarci sempre ma noi di questo torno a ripetere ci deve dare stimolo per creare il gruppo importante per pensare che il gruppo di lavoro è quello che incide e il lavoro è quello che incide sulle nostre prestazioni non altre cose un'ultima cosa giocare bene, giocare male, eccetera eccetera ma al di là di quello che si è detto sempre col senno di poi perché dobbiamo sempre parlare col senno di prima col senno di prima la gara col Sassuolo era temuta il Sassuolo tutto sommato è una squadra valida secondo me perché ha buoni giocatori aveva vinto a Ferrara per cui la prestazione dell'Udinese soprattutto nel primo tempo è stata da squadra sì ma è stata da gruppo da gente che si è aiutata da gente che ha perso per l'altro chiamala come vuoi insomma se possiamo discutere proprio tecnicamente la partita si può anche discutere che magari non è stato di livello eccesso ma da parte di tutte le parti come concetto di lavoro però non abbiamo fatto il nostro tipo di lavoro loro venivano in un momento importante poi la squadra torno a ripetere lì ha dimostrato di essere un gruppo valido un gruppo che lavora che magari sbaglia qualcosa però a creare qualità per andare avanti poi le valutazioni post-gara si possono fare in diversa maniera l'importante torno a ripetere io la tattica la tecnica gli do un valore importante nel calcio però a me il valore importante è un altro è un altro quello che una squadra deve giocare da squadra deve aiutarsi da squadra deve ragionare da squadra ed è quello che noi stiamo cercando di fare di portare avanti con la nostra topologia pensando di migliorare le qualità di gioco probabilmente pensando di applicarsi ancora di più tatticamente e però migliorando quello che secondo me sono le fondamenta per poter creare una squadra di calcio Riguardo a quello che hai detto prima cioè il fatto che hanno giocato i giocatori a sorpresa di conseguenza anche tu hai un po' esplorato hai cercato di prendere le motivazioni i giocatori che finora magari non dico sottovalutato ma visto poco sottovaluto mai io ok infatti ho esagerato io molto l'unica cosa che non faccio è che sottovaluto benissimo perfetto vuol dire che anche tu ti sei rimesso tra virgolette un po' in discussione nel senso che sei andato a esplorare a cercare situazioni un po' alternative la domanda è ti sei tra virgolette pentito di averlo fatto prima devono essere giocatori della motivazione il allenatore guarda e decide il allenatore è uno che sceglie io non mi pinto mai di quello che faccio per pentirsi dopo non ha senso per esempio per il dopo del domani dopo è facile dire potete fare questo e quello ma quello lo fanno altri non io io posso dire il giocatore può darmi migliori condizioni posso averlo visto bene poi magari non mi dà molto in partita quindi le rotazioni del allenatore sono molto diverse dal dopo fare scelte perché secondo lui reputa il momento sia giusto o per far riposare gli altri per esempio o per dare stimoli anche a chi lavora in parte quindi è una scelta normale per un allenatore non è essi giocatore darmela se non avessi avuto le tre partite nella settimana avresti fatto questo turn over ma io non ho fatto turn over ho fatto delle scelte non ho fatto turn over ho fatto delle scelte turn over non esiste nel calcio per se turn over turn over non l'ha fatto se ha solo ha vinto 1-0 a Ferrari non ha cambiato neanche un elemento quindi dipende dal momento dipende dalla solietà dipende dai giocatori dipende da come li vedi dipende se uno è più stanco o meno stanco quindi le rotazioni le rotazioni le hanno fatte di volta in volta che potrebbe una squadra abbia una struttura base c'erano tutti dalla prima classifica all'ultima poi puoi fare qualche cambio però se stanno tutti bene se dimane meno intense puoi farle giocare anche sette giorni di recupero sono importanti ma noi dobbiamo dare una svolta anche come concetti mentali io penso che il calcio sia anche fatto di motivazioni mentali non solamente meccaniche viva Dio meno male insomma sennò saremo tutti come dei robot insomma quindi invece penso che abbiamo anche noi un po' di sangue dentro che pulsa che va avanti quindi da quel punto di vista bisogna fare i conti con quello perché non è che fare i conti solamente vedendo uno che va in campo e dice gioca bene gioca male insomma quindi è un problema molto più avanzato fare gestire dei gruppi che non è una cosa matematica nel calcio sono sicuro che un più difficilmente fa due da altri numeri Udizio TV mister buongiorno a proposito di rotazioni e di chi sta bene l'attesa ovviamente per le convocazioni era quella di capire se c'erano i centrali che vista la squalifica di Samir saranno fondamentali le condizioni di Angela e Noitink come li ha viste in questi giorni di lavoro sta bene sta bene sta bene ho provato devo ancora parlare con lui un attimo dopo vedere un po' come ha agito sulla padella stamattina quello che è fuori dai giochi anche anche Berami non se n'è nato non c'è tanto niente quello però per una lineata l'ultimo secondo da Cannavaro ho avuto problemi quindi è fuori l'unica certezza senti ti volevo chiedere una cosa sull'Atalanta che è stata la vera sorpresa dell'anno scorso quest'anno ha perso qualche giocatore importante però sembra che si sta riconfermando perché sta avendo un ottimo campionato pur avendo anche l'Europa League di mezzo a livello tattico credo che sia la squadra che più assomiglia alla nostra quattro difensori tre centrocampisti una punta di peso davanti che può essere Cornelius o Petagna e poi questi due trequartisti Ilicice o il Papu Gomez o chi per loro che li gira dietro no intanto gioca l'Atalanta gioca a tre in difesa gioca a tre per il giocatore lui no gioca a cinque eh no tre quattro cinque tre quattro cinque gioca a tre fa un tre quattro due uno a due centrocampisti che istante a seconda giocatore vicino a lui agli esterni Spinazzola e poi un altro giocatore d'esterno altri difensori di Tollori poi magari altri giocatori che possono accompare Masiello nato a difesa centrale e loro giocano due hanno un gioco molto aggressivo molto dinamico fatto di grandi anticipi e partecipazione anche alla tacco totale hanno Ilicice che secondo me non fa rimpiangere molto chi è andato via hanno costato giocatori importanti l'ultimo Castagna che doveva venire qua che poi è andato là invece a giocare a Bergamo e quindi erano giocatori interessanti hanno ripestinato Deon che è ritornato quindi non è che sono si è andato via i giocatori importanti però la struttura è molto intensa ma noi dobbiamo pensare all'Atalanta e avere situazioni che si permettono di poter giocare con dei dei ma noi dobbiamo fare la nostra partita quindi non dobbiamo giocare il nostro tipo di calcio se riusciamo con grande attenzione chiaramente con grande rispetto però non dobbiamo fare partita come abbiamo cercato di fare sempre e sarà così anche domani Gazzettino prima hai parlato che non hai fatto turn over ma sono delle scelte e per motivare qualcuno hai detto e per far riposare qualcun altro eccetera eccetera l'assenza di Maxi Lopez era per farlo riposare anche ma mi serve anche a giocare i giocatori che avessero più profondità di lui in quel momento e domani gioca Maxi Lopez no? non si sa penso di sì ma non è tanto il giocatore quanto secondo me quello che può dare un giocatore io penso che ci sono partite in cui Maxi può giocare in cui non può farne a meno perché per un certo periodo di tempo i giocatori con caratteristiche diverse per non me hanno tirato fuori Maxi Lopez e messo Baic allora ci potrebbe essere un cambio di struttura di sosta e tirato fuori Maxi Lopez e fanno giocare Lasagna e Peris sono tutta due cose diverse quindi abbiamo fatto una struttura diversa ma per le caratteristiche della partita sempre per le caratteristiche della partita domani c'è una caratteristica della partita diversa sì 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 ma abbiamo ancora 24 ore per pensare a Sassuolo abbiamo pensato fino all'ultimo momento pensiamo anche oggi adesso abbiamo un po' tempo di più giocare alle 9 qui c'erano le 3 abbiamo 6 ore in meno però riusciamo a pensare bene lo stesso cosa da fare non vi dico niente perché perché me ne tengo per me sì va bene è il tuo diritto invece volevo soffermarmi brevemente su un giocatore sul quale tu hai sempre avuto fiducia anche se non lo facevi giocare perché dicevi ha delle caratteristiche importanti va disciplinato Adnan Adnan mi sembra che abbia risposto presente in queste ultime due gare se no non giocava eh lo sapevo cioè io quando non faccio un giocatore mi dà fidabilità deve continuare però no deve avere no poi sai poi anche lì siamo un po' si leggono discordanti uno gioca bene uno gioca male uno gioca verso uno gioca verso insomma quindi il calcio è fatto intanto per variegato come concetto io penso che un attore sia io ho sempre credo sempre nei miei giocatori non è che non credo di nessuno noi mi devono dimostrare di star bene di applicare quello che noi facciamo nell'allenamento di essere attenti e vengono premiati qualcuno magari stentra un po' di più perché i ruoli sono coperti per cui magari stentra un attimino più a farsi mettere luce però se c'è un problema io come ho fatto giocare Pezzella gioca benissimo Adnan a destra ha giocato una buona partita con la Juventus se non si perde che dire probabilmente fa una partita perfetta e devo dire che lui ha risposto molto bene anche sabato anche mercoledì con grinta con applicazione magari avrà spinto meno che sono caratteristiche minori però il momento è relativamente importante che un pochino ci concederete un pochino di freno di intensità emotiva importante perché è una partita importante per noi e torno a ripetere nel nostro corpo scorre del sangue quindi anche lì magari qualcosa paghidazio nella tensione della partita in quello che può dare però ha dato una buona risposta molto molto positiva ma tutti in linea generale anche chi poi ha magari potrà fare un po' di più magari ha fatto un po' di meno però in linea generale mi è piaciuto molto Samir per esempio centrale ma molto nel senso che è stato è stato un giocatore di una grande aggressività sull'uomo non ha fatto toccare palla per Falcinelli che è un giocatore che l'anno scorso si è fatto molto male al cortone è stato un giocatore che interpreta molto bene il ruolo e quindi abbiamo scoperto anche un'altra caratteristica importante di Samir lui nasce centrale? sì sì assieme centrale però non è stato operato esterno perché aveva caratteristiche di difesa che non servivano perché è anche un giocatore che ha l'arca di accopertura una punta come avevamo noi l'anno scorso in uscita come terro è da una grande mano stanno qua la sua presidenza ha giocato però la tendenza è che con lui non dato niente gli altri giocatori che quando stanno bene e quindi tornerò magari a giocare in certa maniera però abbiamo un'alternativa in più in campo quindi per noi è importante Samir visto l'anno scorso con l'Inter quello che fa con la sparata i 30 metri parla al piede dalla palla poi addirittura come assist non l'abbiamo visto ancora c'è una questione di brillantezza Samir è un ragazzo che è andato fuori ad aprile e è entrato ad agosto punto dico quindi ovviamente sul piatto della bilancia è quello è stato sei mesi fuori Buffon ti faccio un esempio proprio la papale è stato fuori sei mesi quando sono andato per l'ernia no ha avuto un'operazione ha fatto allenamento fuori poi per tornare Buffon vero ci sono avuti anche sei mesi ho avuto un anno di fondo nuovo quindi gli infortuni devono essere valutati diversamente non è che un alzare la mattina mi so spagare la gamba e viaggia quindi sono sensazioni sue per la porra di farsi normale lo spostamento che è diverso il calcio che è diverso la spinta che è diversa ci sono tante soluzioni fisiche non è che uno te lo metti lì ti scusi il bulon e il vai insomma quindi è una cosa che nel calcio noi dobbiamo valutarle bene e sapere quello che lui può dare o meno che può migliorare nel tempo con i suoi passi con le sue cose migliora sicuramente perché le qualità tecniche non le perdi sicuramente le qualità di aggressività non le perdi sicuramente bisogna solamente avere la meccanica per poterli attuare e lui la meccanica ancora deve ancora ripetuparla in pieno come l'anno scorso ti chiedo un pensiero su Berami che tu già vicino al partito di Firenze avevi quasi lanciato non vedendo l'ora di avere questo giocatore che avevi individuato essere estremamente importante per te a mio parere è anche un giocatore che ha alzato la soglia della combattività della squadra l'Udinese era sempre una squadra troppo pulita una collusione di idee un abbinamento di idee se concorda sono giocatori che hanno caratteristiche di chiamare gli altri ad uno all'attacco di chiamare gli altri come pressione lui questa caratteristica ce l'ha sempre avuta come giocatore è una caratteristica che lui buttasse sul campo al di là di poi sia un giocatore di una certa età che può dare anche stimoli importanti a livello di personalità ai ragazzi vicini quella è una caratteristica che noi sì è un giocatore che spero di mantenerla sempre quindi se la mantengo sempre vuol dire ecco magari no spero che magari qualcuno di noi attecchisca anche a questa qualità che in questo momento qui è importante nel mondo del calcio quindi i ragazzi giovani assorbono si dice sempre che i ragazzi bambini assorbono prima spero che i ragazzi di 20 anni assorbono molto più velocemente quello che gli insegna uno di 30 passa insomma ultima domanda mister stando nel centro campo c'è un giocatore Barac che al di là del gol che è stato fondamentale mercoledì dà l'idea che stia crescendo anche a livello di intesa con i compagni su questo giocatore lei che prospettive ha? ha che gioca sicuramente le mie prospettive del futuro lontano non lo so ho detto una frase importante comunque forse senza si comincia a non conoscere hai detto tutto quelle parole lì hai detto tutto non sa neanche parlare più di calcio ma questo conoscerci non è solo suo è solo noi team Larsen Larsen Berami Berami Lopez Danilo Bizzari bisogna conoscerci quindi il passaggio è poi questa frase qua è uguale uguale tempo vedi i passaggi fai le domande che poi scrivono da sole quello lì è un passaggio importante che è sempre stato sottovalutato invece un fattore molto interessante a livello di costruzione di un gruppo di lavoro perché un che va in fabbrica dice di noi prima di meccanizzarsi bene ci vuole del tempo questo è il passaggio grazie grazie